Clamorosa svolta nell'indagine per l'attentato di Namitardo compiuto contro l'avvocato Primo Siotto, presidente dell'ordine degli avvocati di Nuoro. Gli agenti della squadra mobili hanno arrestato sul mandato del GIP in Mauro Pugeddu un commerciante nuorese, Andrea Cocco di 29 anni, e un suo amico, Giuseppe Mingioni di 33 anni, operai. I due vengono considerati presunti autori dell'atto intimidatorio. Un attentato non diretto contro l'avvocato sua moglie, ma nei confronti dello studio per una vicenda giudiziaria che aveva visto coinvolto Cocco. Secondo l'accusa, i due ragazzi avrebbero posizionato l'ordineo composto da 250 grammi di gelatina alla cava sotto la ruota della Honda Gez di proprietà della moglie dell'avvocato Siotto, Giovanna Rosa Garipa, anche lei avvocato. L'attentato venne compiuto alle 3.30 del 21 aprile in pieno centro, in via Spano, a pochi passi dall'abitazione legale e proprio sotto il seminario Vescovile. La deflagrazione danneggiò gravemente l'auto, infrangendo i vetri delle abitazioni circostanti. I particolari dell'indagine sono stati illustrati stamattina nel corso di una conferenza stampa dal questore Pierluigi D'Angelo e dal capo della squadra mobile Fabrizio Mustaro. Il questore ha espresso il plauso agli agenti della squadra mobile per la rapidità con cui si è giunti ad un epilogo di una vicenda che aveva colpito fortemente non solo l'opinione pubblica norese ma anche tutto l'ordine forense e sardo per il ruolo ricoperto dall'avvocato Siotto. Un'inchiesta è seguita personalmente dal procuratore capo Andrea Garau e dal sostituto procuratore Andrea Schirra. Gli inquirenti sono arrivati ad individuare Cocco e Mingioni come gli autori degli attentati attraverso un certosino esame delle indagini delle decine di telecamere posizionate nel centro storico della città. Attraverso la suddivisione in centri concentrici si sono potuti seguire i movimenti dei due attentatori che sono stati ripresi mentre prendevano l'ordineo, lo posizionavano e quindi si allontanavano a piedi dal luogo dell'esplosione. Andrea Cocco nel 2005 era stato fermato ad un posto di blocco, ne era nato un diverbio con gli agenti e dalle volanti che l'ha finito con una denuncia per resistenza. Il processo, terminato nel 2011, si è concluso con la condanna del commerciante a dieci mesi. Due dei poliziotti si erano costituiti parte civile ed erano stati difesi dal legale dello studio Siotto, da cui la decisione di compiere l'attentato contro l'auto del titolare dello studio. Cocco e Mingioni sono stati arrestati stamattina e le loro abitazioni sono state perquisite. I due sono stati associati al carcere nuorese di Bada e Carros.